Che sto facendo qui dentro? Io volevo un corpo di donna! Ah, non sei mai contenta, brutta strega! Questo corpo è vecchio e non è adatto per la regina di tutte le seduzioni! Sta zitta e chiudi la porta! Non mi piace questo corpo! Sempre meglio di quello che avevi prima! Ah 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 ah! Il mondo delle tenebre è sempre là e aspetta che noi entriamo in lui o lui in noi in attesa della prossima volta cercate di godervi la luce del giorno!